Un attimo, un momento, adesso accontiamo quello che dice l'Elettra, che è una delle animatrici missionarie, giovani per la missione. Alza Fabio. Ciao a tutti. Ciao. Siamo adesso in mezzo alla nostra città e il pensiero che rivolgiamo, prima abbiamo rivolto il pensiero a tutti i bambini e ragazzi del mondo, a tutti i bambini e ragazzi della nostra città e della nostra provincia. Con Gesù abbiamo rivolto a camminare e l'abbiamo fatto anche adesso, in questo momento, e lo goderemo a fare e ci vengono proprio ad arrivare alla sua casa.